E così state mandando al macero i concorsisti, le persone dello 060606, altro servizio che state localizzando, i dipendenti della multiservizi, i 48 dell'appalto del Verde su cui non avete applicato le clausole di salvaguardia, proseguendo un bando del precedente sindaco Alemanno. Non ci sono i soldi per l'assistenza domiciliare agli anziani, non ci sono i soldi per i disabili, non ci sono i soldi per il trasporto pubblico locale, visto che continuate a tagliare linee all'insegna di una cosiddetta, non si dice taglio, si dice razionalizzazione. Tutte queste cose sono l'evidenza del vostro fallimento. In questi due anni avete dimostrato tutta la vostra incapacità. E proprio su questo vorrei leggervi, visto che tanto è impossibile ragionarne con voi perché sui banchi non ci siete, alcune lettere che ci hanno mandato i cittadini. Quindi, me ne leggo alcune, caro sindaco, gli istruttori amministrativi facenti parte della più grande procedura romana vogliono essere avviati al lavoro. Abbiamo superato un concorso e non possiamo essere chiamati in 20 o 30 all'anno, che è quello che state facendo, hanno ragione. Solo i vincitori dei posti banditi sono 300 e le carenze sono tantissime di più. Tra tutti i concorsi i vincitori sono 2.000, ne state assumendo 200 all'anno. Tra un po' li assumerete quando saranno vecchi e vado avanti con le lettere. No, non vado avanti, consigliere, sono passati già anche tre minuti. Grazie. Concludo, concludo, Presidente, vorrei leggere... Un secondo, concluda, ma un secondo. Caro sindaco, basta con le somme urgenze e hanno ragione, perché state continuando, anche su questo 200 milioni. È chiaro che quando si affida in somma urgenza si fanno affidamenti di un certo tipo. Anche questa è la prova del vostro fallimento. Speriamo di non vedervi fino al 2023, ma speriamo che duri molto, molto meno. Caro sindaco 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 Ti scrivo Caro sindaco Caro sindaco Ti scrivo per dirti che Ti scrivo 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 Per dirti che 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 Grazie a tutti.